Buttiamo via la paura, uniti contro mafia e sfruttamento. Esponendo questo striscione accompagnato da bandiere fumogeni, si è svolto questo pomeriggio il corteo promosso dal sindacato Sicobas lungo le strade del Macrolotto 2. A partecipare circa 300 persone, fra lavoratori, sindacalisti e movimenti di sinistra, tutti uniti per ribadire la necessità di garantire diritti e dignità agli operai. La manifestazione è stata organizzata a seguito dei violenti scontri davanti alla Dreamland prontomoda cinese di Via Galvani, episodio su cui sono in corso le indagini della procura e nel quale sono rimasti feriti quattro manifestanti pakistani, di cui uno in modo grave. Noi volevamo dare un messaggio a tutta questa città. Quello che è accaduto a lunedì era il rischio di morire qualcuno, perché quella violenza che hanno fatto a loro è picchiata, erano quasi 15 contro 5-6 persone e c'era una cosa molto bruttissima, era pericolosissima, che quattro persone erano finite in ospedale. Quella persona che lavorava qui in questa azienda ha perso la conoscenza per quasi nove ore e quindi noi questa cosa non vogliamo vedere più. Alla manifestazione non hanno preso parte le autorità politiche cittadine. Il sindaco Matteo Biffoni già ieri aveva annunciato la propria partecipazione alla manifestazione Mai Più Fascismi, convocata da CGL Cislewil in piazza San Giovanni a Roma in seguito all'assalto alla sede nazionale della CGL. Ma il sindacato Sicobas non ci sta. I lavoratori da Texprint hanno chiesto per nove mesi al sindaco di venire a ascoltarli ai cancelli. Siamo andati in piazza del Comune all'inizio settembre e abbiamo ricevuto uno sgombero. In quel momento il sindaco parlava di noi e dei lavoratori come il problema di ordine pubblico di questa città. Io penso che questa vicenda abbia mostrato a tutta la città qualcosa che forse era già evidente, cioè che il problema di Prato è lo sfruttamento. Il problema di Prato non sono i lavoratori che scioperano e le istituzioni continuano a perdere l'occasione di venire a parlare con questi lavoratori e a scoprire che dietro a questi proclami, a questi numeri, dove si sbandierano i numeri dei controlli, delle sanzioni, delle sospensioni di attività, c'è una realtà che ci racconta che il giorno dopo è tutto uguale all'interno di queste aziende. Grazie a tutti.